Uscire orgogliosi da quello che abbiamo fatto in campo contro una squadra forte come la Lazio. La nostra squadra ha tenuto la partita fino alla fine, fino alla fine contro una squadra forte come la Lazio. Difficile da giocare perché è una squadra che cerca di attirare l'avversario per creare spazi dietro e quando vai davanti a fare un pressing deve essere un pressing molto ordinato, con grande energia. L'abbiamo fatto in certi momenti bene, quando non abbiamo riuscito a farlo abbiamo messo un blocco basso e lavorando da squadra collettivamente abbiamo creato delle situazioni dove al recupero potevamo ripartire e fare del male a una squadra come la Lazio. Triste, è vero, dobbiamo essere tristi perché meritavamo qualcosa in più, digerire questa sconfitta e abbiamo oggi e domani per farlo e da lunedì saremo concentrati come sempre abbiamo fatto a lavorare al massimo per affrontare la nostra prossima battaglia che è una partita difficile ma bellissima da giocare contro l'Atalanta. Sono contento del gol, però anche della prestazione che abbiamo fatto insieme con la squadra però c'erano quattro episodi che non eravamo svegli e lì abbiamo perso la partita. Noi ci siamo, siamo pronti per le prossime tre partite, ci prepariamo nella prossima settimana per Atalanta e speriamo di fare punti nelle prossime tre partite. Siamo contenti che oggi il picco era pieno, era pieno di gente che sono sempre dietro di noi e speriamo che anche nelle prossime due partite a casa vengono ancora qua e ci sostegnano. Grazie. 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 Grazie.